Roberto, prossimo artista, torna a trovarci a Musica sotto le stelle, Aldo Lucci. Aldo Lucci che arriva? Beh, giustamente. Buonasera. Buonasera Aldo, ben rivisto. Non è Aldo? Chi è? Ah no, mi sono sbagliata. No, forse non lo so, ma chi è così? Sì, prego. Ragazzi, dov'è l'onorevole Bocchino? Oddio, no. No, no, perché adesso, dico, questi onorevoli, oltretutto che fanno, che hanno pure questi cognomi strani. Le ricordo che siamo in fascia protetta. Ma si chiama così davvero? Lo so, è vero. Come cacchio si deve chiamare? Come la moglie? Come la deve chiamare? Bocch? Per non dire la parolaccia, no? Adesso vi rendete conto? Ecco, io ho visto qui della gente serissima, che quasi mi viene... Ammazza quanto sono brutto, pensavo guardare su cosa. Grazie. Meglio così, Aldo. Meglio, meglio. Eccolo qua. Allora. Questa non è una parrucca, è una medusa, ho preso a torvagliare. Orribile questa parrucca. C'è ancora i parruccati di 18. Però, tutto sommato, per dare la sensazione. Che poi dopo un po' da fastidio, un prurito. Sì, non è che... Quando faccio il spettacolo, tanto poi stiamo a parlare. Quando vi capita da fare le serate, una volta ogni vent'anni, perché prima si è presionato di più. Allora, quando no, veramente, vi capita di fare le serate, di estate, che è di luglio-agosto a mettere queste parrucche. Con questi strumenti qua. Vi dispiace se la poggio qua, perché mi da fastidio. Perché devo gesticolare. Dico, quando mi capitano queste serate, per esempio, quando mi capita da fare questo personaggio? Però questo c'ha solo gli occhiali. Beh, insomma, dico, buonasera. Ho portato pure mia nipote lì, che è l'unico che mi dice bravo, insomma. Perché io... E sei il suo nipote? Nipote si chiama Aldon Ucci, ma lui, insomma... Ah, ecco. E non conta niente, conto solo io. Va bene, ragazzi, questa sera stiamo facendo una cosa così al volo, no? In carità. Quindi, però, io devo dire una cosa, che ho portato anche dei cantanti, perché l'altra volta, quando sono venuto qua come ospite, mi sono limitato a fare Fabrizio e fare qualche altra cosa. Però questa sera, se il maestro... Il maestro, ci senti? Sente il maestro, sì. Il maestro sente? Sì, penso di sì. Io ho portato, per esempio, questo cantante, che a me piace, a me è simpatico, c'è domani così e in portafoglio così, perché sono 50 anni che canta. Ci avete fatto caso? Aldo, che dici se ti lasciamo il palcoscenico tutto da solo? Sì, ecco, lasciatelo un attimo, sì. Eh? Prego. No, lo voglio che magari lascia solo lei. Ah? Per me. Aldon Ucci, prego. Ok, sentiamolo un attimo. Buonasera ragazzi, voglio cantare una canzone che forse ho cantato qualche volta e voi mi avete ascoltato, perché io più di cantare bisbiglio, anzi, eccola qua. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Tutti, dai! Non era bello ma canto a sé, aveva mille donne e sé. Cantava, eh! I think you're right, all lady, Jane, oh yes, day. Cantava viva la libertà. Grazie ragazzi, Gianni Morandi. Grazie, grazie. Elvis, sei il più forte di tutti, eh? Elvis, ti voglio dedicare, questo cantante ti voglio dedicare. Allora. E poi se si vuole, se che si vuole, se che si vuole, se tu sai, tu sai, tu sai, tu sai. E chi sono io, chi so, chi sai? E se mi vuole, perché quando va non si capisce niente. Vasco. Signori, vasco, rosso, fiasco rosso, cantante divino. E se vuole, 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 se vuole. Amanda, voglio una vita, va l'educata, voglio una vita di quelle fatte, fatte così. Amanda, vieni. Voglio una vita, che se ne frega, che se ne froga di tutto, sì. Bella. Cambiamo personaggi, eh? Voglio una vita, è vero che non è mai tardi, piena di matriciare, di carburare, di quelle che non dormi mai. Raimondo, vieni. Buonasera, voglio una vita, è vero. La voglio piena di guai. Buoni, 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 buoni. E poi chi c'è? Luis Harbisson. E poi ci troveremo con il salle, a bene del whisky, a Roxy Bar, oppure non ci troveremo mai. Claudio Villa. Ognuno, 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 ognuno diverso, ognuno in fondo perso, dentro i fatti suoi. Guccini. Voglio una vita, spericolata. Voglio una vita di quelle fatte, fatte così. È vero. Voglio una vita, che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Papa Reitzinger. Rex Guapo. Voglio una vita, che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai, è vero. Vorrei pure un applauso se mi fate. A foglio piena. Grazie, grazie, grazie alla regia. Possiamo sfumare. Cioè, io mi diverto quando faccio... Questa sera ho tagliato, ho scorciato. Però quando la faccio tutta, questa cosa qua, ci metto 10-15 personaggi, secondo me capita... Poi, purtroppo, tanti sono morti. No, poi mi fa più. Perché capita, eh? Cioè, capita... Mi ricordo, facevo pure Minoretano, solo che poi... Quello è... Minoretano, me lo ricordo! Quando ho contato... Voi lo ricordate, Minoretano? E poi facevo pure lui, che è uno che ha aspirato nella vita, però adesso... Adesso non lo so più, però l'ho fatto, scusate. Va bene, allora quanto c'ho ancora? Un minuto a chiudere. Un minuto a chiudere? Con chi possiamo chiudere? Vediamo. Con chi chiudiamo? No, guardate, chiudiamo un attimo, dedicata a Pino Scavo, perché... E a voi, anche, la grande Anna Magnani, l'Annarella. Aspettate, c'è uno shawl. Lì, chi me lo prende? Aspettate, aspettate. Facciamo così, lo shawl, eccolo qui. Ci mettiamo lo shawl. Risata. Buonasera, come state? Come bello fa l'amore quando è sera, core a core, con sto pupo che è sincero, ah, bello. E le stelle che ti guardano lassù, non so belle come l'occhi che c'hai tu, da pesce fracico. Signore e signori, un bel bacione a voi. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Aldo, complimenti uno meglio di un altro come personaggio. Grazie, grazie, grazie. Questo lo devo ridare, perché... Eh sì, lo devi restituire a legge di... Posso ridarlo? Posso ridarlo? Grazie. Un applauso ai nostri fonici, grazie. Che senso è la loro preziosa opera? E grazie anche a Gianluca Nessica. Grazie Aldo Mucci. Vari personaggi, Isabella ti chiedo un attimo scusa se possiamo...